musica 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 Giornataggio, oggi turno lungo non mi passerà più. No, non si finisce più di pulire questa stanza. Guarda. Ma che dà? Guarda, un cappello tipo quelli di panorama. Bello. E io lo metto. Fulà. Mettitelo anche tu, dai, dai. Sì, sì. Perché fa fashion? Aspetta, aspetta. Bellissima. Ma stai pensando anche tu a quello che sto pensando io? No. Ma come no? Una chitarra elettrica. Un fulà, un cappello panorama. Hai capito chi è? Aspetta. Ci hanno detto che c'è un famoso divo qua. Infatti. Lui. Sì, lui, lui, lui. Ha l'espresso, l'espresso. No. Johnny. 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 Sì, quello lui. Johnny, lui, Johnny. Quei vincioso. È Johnny Dea. Johnny. Ovunque tu sia. Questa canzone è per te. N diabetes. Di adesso. Story po' C'è. T'entrgano. Grazie per la visione Grazie per la visione